Allora, sì, a tutti i due giorni stanno via. Sì, noi abbiamo più da casa. Perché ora non ci vedi un po' più. Ma non c'è nessuno. E' un piccolo segreto, suggettivo. Un po' il mio termine, vediamo fuori la voce. Noi non c'è nessuno. Ocché nessuno. e tutti stanno a sentire il giocatore e voglio sentire a frenare tutti e voglio sentire a frenare tutti perché anche il nostro cammino è cammino e la mia famiglia è una famiglia al suo lavoro per il giocatore